Questa iniziativa è un'iniziativa che ci lega molto alla possibilità di poter presentare i prodotti di CLE. Quest'anno presentiamo Resettami Parkinson, dopo aver presentato già due anni fa Resettami Cure Domiciliari, che intanto ha ricevuto numerosi attestati ed encomi, poiché alcune ASL territoriali hanno già utilizzato in questi due anni Resettami Cure Domiciliari e hanno avuto la possibilità di monitorare e definire percorsi di integrazione all'interno dei singoli distretti, all'interno della singola ASL, su un tema importante che sono appunto le cure domiciliari. Sul tema del Parkinson, a distanza di solo un anno, CLE è riuscita a presentare il nuovo prodotto che è Resettami Parkinson. Il tema fondamentale è la possibilità di gestire la malattia di Parkinson e dei singoli soggetti, pazienti che ne sono affetti, insieme anche alle proprie famiglie e quindi ai caregiver, all'interno di un sistema di gestione della malattia che è il sistema che fa riferimento all'integrazione, al tema della governance e al tema fondamentale dei ruoli all'interno di un unico processo di presa in carico del paziente Parkinson.